Buonasera e benvenuti alla nostra rassegna stampa. Dunque si è concluso il primo giro di consultazioni. Il Presidente della Repubblica, Mattarella, alle 20 di questa sera, dopo un paio d'ore di riflessione, ha deciso di concedere tempo alle forze politiche per una possibile intesa. A martedì partiranno altri due giorni di consultazioni. Dunque ancora tutto sul tavolo di questa giornata della crisi politica di agosto. Parliamo questa sera in studio con il nostro ospite Pietro Paganini, economista della John Cabot University. Buonasera e bentornato. Andiamo subito a vedere come titolano le prime pagine dei quotidiani che ci sono arrivati fino a questo momento e che troverete domani in edicola. Li vediamo un po' divisi. Da una parte concentrati proprio sulle parole del Capo dello Stato di questa sera, che tra poco sentiremo, e altre aperture invece che guardano al futuro, a questa possibile apertura di un'alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Partiamo dal mattino di Puglia e Basilicata, che ben sintetizza questa giornata. Mattarella decide di metterli alla prova. La soluzione della crisi rinviata la prossima settimana, martedì, nuovo giro di consultazioni al Colle. Dopo aver sabotato il governo, Salvini corteggia ancora i 5 Stelle che aprono al PD con 10 proposte. Il giorno apre con una foto del Capo dello Stato e 96 ore, ovvero il tempo che hanno a disposizione i partiti per accordarsi. PD e Movimento 5 Stelle si tratta sul programma. Oggi primo incontro al centro posti di governo e taglio dei parlamentari. Mattarella dà ai partiti altri 4 giorni per trattare maggioranza chiara o si va al voto, le parole del Capo dello Stato. Il tempo furia di Mattarella. Vi mando a casa. Il Capo dello Stato, irritato dalla manfrina messa in scena da PD e Movimento 5 Stelle nelle consultazioni, lascia 5 giorni. Martedì, se non ci sarà un accordo, finirà la legislatura e Zingaretti ci prova. Andiamo al giornale. Trattativa imbarazzante PD e Movimento 5 Stelle. Come dicevamo poco fa, lo sguardo a quanto è accaduto, agli accordi che sono cominciati proprio questa sera dopo le parole del Capo dello Stato. Scherzi a parte il titolo del giornale. Zingaretti, Di Maio e Salvini si prendono in giro. Mattarella furioso da tempo fino a martedì. L'editoriale di Alessandro Sallusti. Partita ridicola. Fischiate la fine. Dopo lo leggeremo insieme e lo commenteremo con il nostro ospite. Il fatto quotidiano. Zinga impone un altro veto, ma oggi Movimento 5 Stelle e PD si vedono. Il segretario dice no. Di Maio è il primo punto. Taglia casta. Il riferimento è al taglio dei parlamentari. Conte in attesa per decidere il commissario italiano all'Unione Europea. Il premio riuscente in relax con i suoi familiari. A centro pagina un Matteo Salvini vestito da clown. Il titolo è il pagliaccio. Capitan Salvini ha perso la rotta. Riguole il governo con il Movimento 5 Stelle che ha appena rovesciato ed elogia Di Maio che gli dà del traditore. Mattarella è seccato ma non chiude il forno. 5 Stelle e Lega è da tempo a tutti fino a martedì. Tra poco sentiremo anche le parole del leader della Lega Salvini. Questa è l'apertura invece di Libero. Comunque finisca perde. Di Maio va in castigo. Grillini pronti a sacrificarlo per accordarsi con i Dem. Una retroscena questo secondo Libero. Fico vuole fargli le scarpe. Zingaretti non gli perdona i contatti ancora aperti con la Lega. L'Europa ha detto che ha sbagliato tutto. Anche il Quirinale ce l'ha con lui. Eppure la mano tesa di Matteo finisce per fregarlo. Allora ci fermiamo qui con una prima lettura dei quotidiani. e direi di sentire a questo punto subito le parole del Capo dello Stato di questa sera alle 20. Poi le commentiamo in studio. Nel corso delle consultazioni appena concluse.